Il birillo abruzzese sarebbe stato particolarmente puntato, non è un caso che a differenza di regioni dove il centro-sinistra ancora non riesce nemmeno a individuare un candidato, qui il candidato hanno fatto lo sforzo di scegliere dopo 5 mesi di anticipo. E io di fatti ai partiti alleati che sono tutti qui presenti e che ringrazio per il grande sforzo che hanno fatto, hanno tutti dimostrato di essere in ottima salute, che anche questa narrazione negativa sulle competizioni, le fibrillazioni, i cannibalismi, si erano fesserie perché tutti abbiamo fatto delle liste molto competitive, i nostri partiti tutti hanno ottenuto un risultato importante, lasciatemi anche con un principio di orgoglio personale sottolineare il risultato importante della lista che porta al mio nome e che fa sostanzialmente la differenza, porta al valore aggiunto che ci consente di passare dal 48 e mezzo di 5 anni fa al 53 e mezzo di oggi, sostanzialmente quello è, diciamo, così era stata costruita e pensata, quindi che poi per fare una battuta il campo lungo abbia battuto il campo largo, grazie.